il pacchetto che è ora attualmente nello shop di fortnite dà 25 euro e ti dà 3 skin leggendari che sono il corvo congelato torvo maestro della gelie di piume cavaliere rosso congelato lo spauracchio di ghiaccio che viene dalla tunda va bene? bellissimo e il ranger dell'amore congelato mera al cuore di ghiaccio secondo me questo è 3000 volte meglio del ranger soprattutto per i motivi che ha sul petto che lo vanno a risaltare un botto molto meglio secondo me gabbi di ferro congelata nessuno può sfuggire al freddo il leggendario scudo congelato del cavaliere rosso mi sembra più grosso non lo so il perché e ali dell'amore congelato l'amore è un brivido che dire di questo pack è molto conveniente secondo me dato le skin abbastanza come ti posso dire bellissime il mio parere è più fighe non so il perché mi piacciono di più va bene ottieni tutto e chiudi ma non è l'unica cosa che andremo a comprare abbiamo 2250 V-Bucks ragazzi andiamo a comprare la regina del ghiaccio la pilla ah per me è una regina di ghiaccio veramente figa fatta con i controchiazzi veramente la faccia lascio un po' a desiderare però la skin è veramente bella mega like mega supporto per questa scioppata assurda di 45 euro e andiamo ad acquistarla bam la pilla questo ho completato con successo ragazzi abbiamo 4 e 4 cavaliere rosso congelato ranger dell'amore congelato corvo congelato che sono secondo me delle skin fantastiche anche con questo mantellino ci stanno un botto veramente tanto bellissime dove è l'altra che non la tru eccola la pilla fuori del set paese delle meraviglie invernali veramente bella con questa season mi sta piacendo un botto ho sciopato veramente tanto nell'ultimo periodo ho preso queste queste skin il crack shot altro questo qui il suo ritorno che diciamo che lo aspettavo perché è bella come skin operazione zabaione comprata la prima volta che uscì nella stagione 7 che dire abbiamo ali dell'amore congelate che con questa skin sono praticamente fantastiche fantastiche gabbia di ferro congelata anche con questa skin tanta tanta roba anche lo scudo rosso però la sinistra trapassa la sinistra peccato però è bellissimo veramente figo questo pure ci sta un botto vabbè il suo andiamo a fare questo accoppiamento bellissimo ho preso anche il candy axe nell'ultimo periodo questo qua ho preso veramente parecchia roba per essere ancora inizio season più o meno sono passate tre settimane fatemi sapere come vi sta andando questa stagione mi sta piacendo un botto come ho detto noi ci vediamo con un prossimo video prossima live un bel like per questa mega shoppata bene 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 bene